Un programma di iniziative in primo piano di intrattenimento, ma la gamma è stata ampia, che ha offerto occasione alla cittadinanza di uscire di casa e ritrovarsi in spazi pubblici condivisi. La collaborazione di tante associazioni del territorio è una macchina organizzativa che ha funzionato. Sono gli elementi essenziali del positivo bilancio che l'amministrazione comunale ha fatto dell'edizione 2018 del giugno aglianese. Sì, è stato un giugno aglianese che si è confermato un appuntamento molto importante per il nostro territorio, con decine di migliaia di presenze. Un giugno aglianese che è stato sia all'insegna della tradizione, perché appunto nasce come momento in cui le associazioni del territorio fanno spettacoli, presentano il lavoro che hanno sviluppato durante l'anno e in più ci sono stati tutti una serie di appuntamenti e di spettacoli che hanno reso godibile e fruibile a un'ampia parte della nostra popolazione, ma non solo, perché nel giugno aglianese vengono tanti anche da fuori e quindi è un momento in cui si vivono le strade, le piazze della città, un momento di grande socialità. Il rapporto con le associazioni del territorio è fondamentale per la riuscita della manifestazione. Quest'anno, da questo punto di vista, com'è andata? Il rapporto con le associazioni è assolutamente determinante per la riuscita di questa manifestazione e ad Agliana, tra l'altro, di associazioni ce ne sono tantissime, rappresentano il vero tessuto connettivo della nostra società, il motivo anche per cui abbiamo passato anni di grande crisi, un po' come tutto il resto della Toscana e dell'Italia, però il tessuto sociale non si è sfaldato grazie a queste associazioni di vario genere, perché ci sono le associazioni culturali, ci sono le associazioni sportive, quelle ricreative e devo dire che questo rappresenta la grande ricchezza di Agliana, la voglia di stare assieme e di fare qualcosa di buono per gli altri e anche per se stessi.